Il miracolo è perché siamo partiti bene. C'è un lavoro dietro, dall'11 di agosto che lavoriamo insieme abbiamo creato una squadra forte, un gruppo di ragazzi, un gruppo forte che siamo partiti per fare un grande campionato. Poi per arrivare lì su e cercare di avere tanta fortuna, tante componenti positive, ma sicuramente abbiamo una squadra forte sotto l'aspetto del gruppo e quindi cercheremo di giocarci la fine alla fine cercando di toglierci le più soddisfazioni possibili. Ero molto preoccupato dopo Catania perché quando vinci una partita come Catania la testa ti viaggia e invece ci siamo ritrovati subito. Dopo siamo tornati con un viaggio lunghissimo, siamo andati a Pinedo e abbiamo fatto un'altra grande partita e questo è l'aspetto più importante che un allenatore può avere nelle prime partite di campionato. Da questo ci dobbiamo costruire qualcosa di importante, non abbiamo fatto assolutamente niente, dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di fare il massimo, poi il massimo vediamo a fine campionato quale sarà. Per noi, ti ripeto Enrico, sarà una festa, già dalla mattina quando partiremo che verremo a Montesilvano e ritiro al pregara, per noi è una festa, è un grandissimo premio per i ragazzi venire a giocare all'Adriatico, cercheremo di fare bella figura davanti a una scuola forte, però l'importante rimarrà il fatto che ce la siamo conquistati a Catania questa partita. Per me Pescara è la seconda casa, un grande rapporto con Daniele Sebastiani che per me è un carissimo amico, ma non nessun rimpianto, purtroppo è andata male, purtroppo nel calcio le cose delle volte vanno storte, non come devono andare. È un bagaglio che mi porto dentro, è stata una grandissima esperienza, mi sono rimesso di nuovo in discussione con la speranza che possa fare bene e tornare in quelle categorie, lavorando e con grande umiltà sul campo e cercando di arrivare a grandi risultati.